Quante volte mi sono sentito dire Beati voi frati, voi siete beati perché non avete preoccupazioni, perché vivete fuori dal mondo, perché abitate in luoghi stupendi e mille altre cose, ed è vero noi siamo beati. Ma quando poi rispondo E allora perché non lo fate anche pure voi? Allora le persone sorridono, in realtà non prendono nemmeno in considerazione la possibilità di una vita religiosa. E non solo perché non hanno la vocazione, ma anche perché pensano di desiderare qualcosa che in realtà non desiderano, come chi dice come mi piacerebbe vivere in un'isola, ma in realtà non ci resisterebbero nemmeno un mese. Così accade anche nei confronti della santità. Beato chi prenderà parte al regno di Dio, sì certo è vero, ma non imitiamoci a dirlo con le parole. Impariamo a nutrire veramente, autenticamente questo desiderio. Cerchiamo di trasformarlo nella realtà di ciò che viviamo. Gesù ci offre veramente la possibilità di essere suoi discepoli, chi da frate, chi da insegnante, chi da infermiere, chi da moglie, chi da artista, c'è un posto per tutti. Come disse Papa Giovanni Paolo II Fate della vostra vita un'opera d'arte.